Successo pesantissimo per la Igo Volley nel derby di ritorno con Chieri. Le azzurre di Lorenzo Bernardi conquistano tre punti e allungano a più otto in classifica proprio sulle ragazze di Bregoli. Decisivo l'ingresso dalla panchina di Enviges. Premio MVP per Sara Bonifacio, autrice di 11 punti con il 70% in attacco. Per la Igo è la vittoria numero... Abbonati a soli 9,90€ all'anno! Gioielleria Rossi, il nuovo negozio in via Briona a Domodossola.